E' notizia di questi giorni che il vice sindaco ha sollecitato il senatore Iannone al fine di presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro dei Trasporti quali azioni intende intraprendere per risolvere il problema del ponte provinciale all'ingresso della frazione Lago nel comune di Castellabate. Ad intervenire in risposta la nota stampa al vice sindaco di Castellabate Luisa Maiuri e il consigliere di opposizione Luigi Maurano. Tutto condivisibile, continua Maurano, se non che il problema è già in via di risoluzione. Infatti, grazie all'intervento della minoranza e alla sensibilità dei vertici provinciali, la messa in sicurezza del ponte è stata già inserita nell'elenco delle opere finanziate dal ministero Fondi MIT 2019. E' stato approvato il progetto esecutivo per 190.000 euro, quindi prima dell'estate, sottolinea Maurano, come era già stato promesso dalla provincia, il ponte verrà messo in sicurezza. E' anche abbastanza sconcertante che un senatore della Repubblica proponga un'interrogazione e faccia discutere il Parlamento su di una questione che è già risolta, progetto esecutivo approvato, fondi stanziati, procedura di gara in corso. Vorremmo ricordare che questo ponte è in tali condizioni da almeno otto anni, anni in cui alla regione e alla provincia governava il centrodestra, anni in cui gli esponenti politici della maggioranza del comune di Castellabate, avevano un ruolo in quelle compagini. Solo ora, solo a problema risolto intervengono? Vuoi vedere che, dato l'imminente inizio dei lavori, vorrebbero prendersi indirettamente i meriti come loro consuetudine, conclude Maurano?